cari fratelli e cari sorelle della luce di maria siamo qui davanti alla chiesa di san giacomo meggiugori è un video che vi faccio provvisorio perché stiamo andando alla croce blu a fare il rosario quindi la preghiera sarà sostituita dal santo rosario che offriremo per tutte le intenzioni della luce di maria lì alla croce blu dove la madonna ogni due del mese appare alla vigente miriana faremo poco questo rosario di ringraziamento di lode al nome di gesù e consegneremo tutte le vostre intenzioni in questo santo rosario quindi tra credo dieci minuti ci collegheremo dalla croce blu per fare questa preghiera insieme a voi a più tardi facciamo un ave maria insieme ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen tra dieci minuti per il rosario a dopo